Pizza in tour al ristorante Schiavone di San Buceto, successo per Stefania Nebuloso e Romolo Mammetti, secondo posto per Carmina De Bonisi, il terzo per Pina Di Marzio, il premio della giuria per Maria Angelucci e il premio della critica per Antonietta Ferrante. Commentiamo questa serata con il presidente di giuria, il maestro di cucina Santino Strizzi. Com'è andata? E andate che queste nostre, chiamiamole oramai cuoche a tutti gli effetti, anzi, viste che in giro c'è una fame di cuochi che non ci sono più persone che vogliono fare questo lavoro, apriamo questo ristorante da mamma. Il ristorante delle casalink? Eh, ma il ristorante delle casalink, ma le casalink mamme, perché poi sono tutte mamme, quindi invece stasera hanno dedicato tantissimo, perché per fare la pizza non è semplice, fare una pizzetta con il lievito già pronto, queste cose qui è una cosa, ma loro anche l'abbellimento che hanno messo e poi loro stanno fuori casa e stanno in un forno che non conoscono. Tra l'altro questa sera il locale era pieno, quindi si sono dovuti confrontare anche con un forno usato a mezzo servizio perché davvero c'era tanta gente al ristorante Schiavone. Per fortuna loro, perché sono persone in gambissima e quindi la gente ci viene volentieri qui, è logica che per noi, per le concorrenti, si trovano in un forno diverso da quello di casa, non sanno le temperature, perché la temperatura a casa del forno statico è una cosa, la temperatura qui raggiunge mille... Ben altra? Beh, è tutta un'altra cosa, però si sono difese benissimo, anzi posso dire che di pizze bruciate sotto non ce n'era nemmeno uno.